Ciao a tutti e benvenuti su Macerix Tutorial. Oggi andiamo a vedere insieme come attivare il blocco PIN della SIM. Entrando nelle impostazioni, tasto con gli ingranaggi, andiamo a cercare dati biometrici e sicurezza. Scendendo in basso troviamo altre impostazioni di sicurezza. La prima voce è configura blocco SIM. Quindi in questo momento la mia SIM ha il codice PIN disattivato. Ci clicchiamo sopra. Di norma la SIM ha un PIN di 4 zeri, a meno che non sia differente ed è indicato nel talloncino dove è inserita la SIM al momento dell'acquisto. Datelo ok. E la SIM adesso ha il blocco. Quindi ogni qualvolta effettuerete l'accensione dello smartphone vi chiederà il codice blocco della SIM. Qualora, come nel mio caso, ci siano 4 volte 0, basta fare cambia PIN scheda SIM. Inserendo il vecchio codice, 4 volte 0, e inserendone uno nuovo. Ve lo richiede per la seconda volta. e la modifica del PIN è riuscita correttamente. Viceversa, qualora vogliate disattivare il blocco SIM e non lo vogliate presente appunto ogni volta che accendete il telefono, basta digitare qui il flag per lo spegnimento e ridigitare il codice. In questo caso l'abbiamo appena cambiato. Ok. Il codice è stato disattivato. Spero che il video sia utile. Lasciate un like e condividetelo. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Un abbraccio da Macerix. Un abbraccio da Macerix.